Il progetto iScore nasce dalla necessità di una sempre crescente sostenibilità unita sia alla riduzione dell'impatto ambientale sia all'incremento delle prestazioni. Proponiamo un approccio integrato di progettazione della macchina utensile che richiede l'utilizzo delle schiume metalliche come materiale smorzante, una progettazione e modellazione della capacità di asportazione della macchina e, infine, la capacità di analizzare in modo critico le prestazioni sulla macchina riprogettata. Il progetto iScore si pone come uno degli obiettivi principali lo sviluppo di un sistema integrato per il controllo e monitoraggio delle grandezze di interesse, lo smorzamento delle vibrazioni e la valutazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici delle macchine. Stiamo lavorando su una tecnica innovativa basata sulla crinogenia. Ci occupiamo dell'impianto, della macchina e del processo stesso facendo simulazioni del processo di taglio e stiamo effettuando test sperimentali per caratterizzare i meccanismi di usura e caratterizzare la vita utile degli utenti. Io investo qui, io investo qui, io investo qui. Grazie a tutti.